Il fuoco che celebra l'arrivo della primavera che unisce le famiglie davanti alla fede e alla tradizione popolare che affonda le sue radici nella storia più antica. Partono a marzo i rituali noiani del fuoco con un appuntamento atteso da residenti e turisti a Noi Cattaro, i falò di San Giuseppe, alla vigilia della festa del patrono della Chiesa Universale. Anche per l'edizione 2024 l'evento si è dispiegato tra riti, spettacoli e sapori per una notte che è simbolo di rinascita, richiamando i messaggi pasquali della risurrezione di Cristo in attesa delle celebrazioni per la settimana santa. I rituali noiani vogliono essere per tutta la comunità un momento forte per riappropriarsi delle proprie origini. Certamente il momento fulminante sono i ritmi della settimana santa, è un intero popolo che ripartecipa e sentirsi comunità significa proprio la gioia di fare insieme. Ci sono tutti i segnali positivi e questo ci fa guardare avanti con grande speranza. Anche l'edizione 2024 dei rituali noiani del fuoco vede il riconoscimento della regione Puglia che li ha inseriti nel registro dei rituali festivi legati al fuoco istituito nel 2019. Quest'anno si rinnova poi la collaborazione con i comuni di Corato e Quasano nell'ottica di una reciproca promozione degli eventi della tradizione popolare. Vogliamo comunicare un messaggio importante in questo periodo particolare alla nostra comunità, alla comunità noiana, ossia di fare assieme festa per essere aggregati attorno al fuoco domestico.